Grazie, allora avete capito la situazione è grave, la situazione è grave e occorre la filosofia, non perché la filosofia risolva le cose, questo non è mai successo in tutta la storia dell'umanità, la filosofia non risolve nessun problema, sono migliaia di anni che la filosofia si sta occupando di come porre i problemi, quindi hai un problema da affrontare, prima fai filosofia, è l'unica cosa a cui serve la filosofia, poi intervengono quelli che risolvono, i tecnici, gli economisti, gli statisti, gli ingegneri, quelli risolvono, però prima per chiedersi che cosa c'è che non va, allora si chiama il filosofo. Io non so, posso essere utile in questo campo perché mi interesso di filosofia della mente da un po' di tempo, magari chissà può tornare utile. La situazione è grave, è grave, adesso parlo da filosofo della mente, la situazione è grave, è urgente, è vasta, è nuova, peggio di così non si può andare. Quindi che cosa serve dal punto di vista della filosofia della mente? La genialità. La genialità non da parte degli esperti, questa parola qui, countdown, è degli anni 40, fine anni 40, quando c'era la guerra fredda. Durante la guerra fredda c'era il problema adesso scoppia la bomba, non scoppia la bomba. Era terribile a quel tempo, una situazione di ansia costante, costante, costante e c'era l'idea del countdown, è cominciato il contro la rovescia. Poi c'era un orologio su una rivista americana che segnava meno 5 a mezzanotte, meno 10 a mezzanotte, ogni settimana spostava la differenza tra adesso e mezzanotte, perché mezzanotte era scoppiava la bomba. Quello lì era un countdown che riguardava solamente gli statisti, i capi di Stato, Khrushchev, Kennedy e così via, negli anni 50-60. Attualmente il countdown che è in corso è democratico, cioè voi potete intervenire. Come? Con i bisogni, con i bisogni e con le opinioni. Non mi va, voglio questo, non voglio quest'altro, la gente vuole questo, la gente vuole quest'altro, voi potete intervenire. Quindi genialità adesso, non come negli anni 40, genialità devono essere dei geni Khrushchev e Kennedy, no, dovete essere dei geni voi. Voi. Difficile? Come si fa ad essere dei geni? Ci vorrà una biografia importante. Sì, può aiutare una biografia in cui sei orfano, disperato, oppure meditatore, oppure hai avuto dell'illuminazione, può aiutare, ma non è decisiva. Diventare persone geniali è una cosa che richiede poco, come vedrete, e i mezzi li avete tutti, per quello che riguarda la filosofia della mente. Bisogna soltanto appoggiarsi nella mente alle parti giuste. Attualmente se una persona vi parla di sostenibilità, cioè di crisi ambientale, di pericolo imminente, dice ci vuole razionalità, sentimento, amore, e paura. Ecco, errore, errore. Razionalità, ragione, no, ragione no, ragione non serve, in questo momento non serve, perché la ragione è quella nostra utilissima abilità della mente che consiste nel saper impiegare degli schemi già appresi, già sviluppati e già che sono stati risultati validi. Questo qui è la ragione, si chiama ragione in latino. Come la matematica, impari tutte le varie operazioni, quella lì è la razionalità. Tutti gli animali ce l'hanno, noi la usiamo quando parcheggiamo, quando parliamo col commercialista, quando corteggiamo qualcuno, sono tutti i sistemi razionali. Quando la situazione è già nota, la situazione attuale non è nota, non è nota. Invece della razionalità occorre il pensiero. C'è come il pensiero? Ragionare è come pensare? No, ragionare non è come pensare, sono due nemici nella nostra mente, ragione e pensiero. La ragione si impiega schemi già notti, pensiero invece non impiega schemi notti. Il pensiero fa una domanda, si fa una domanda, che la ragione non fa mai. Tu parcheggi e parcheggi con la ragione, tu corteggi e corteggi con la ragione, tu parli col commercialista e parli col commercialista con la ragione. Non ti chiedi mai la domanda del pensiero che è perché? Perché? Il pensiero è bravissimo sul perché. Il perché per il pensiero è un lancio verso l'indescrivibile. Il pensiero è una cosa che non si può descrivere. Funziona sempre, è facile, è semplice. È come il tennis, tu tiri una pallina e ti arriva la pallina, ma non sai da dove. La pallina è la tua domanda, perché? Qual è la soluzione nel punto di vista più originale dell'orizzonte? Ecco, questo è il pensiero. Il pensiero, tutti quanti ce lo abbiamo, se spegni la ragione, gli schemi che conosci già, viene fuori il pensiero, non devi impararlo, non occorre leggere. Il pensiero è leggero, leggero. Semplicemente ci vuole il coraggio quando tiri la pallina verso questo mistero, questo universo intero. Ti arriva, tu fai una domanda a quel pensiero, dopo pochi secondi, dieci, quindici secondi, ti arriva la risposta. Non sai da dove, non sai come, devi solo prenderla. Se non la prendi, se la prende qualcun altro, poi dici, hai avuto una buona idea, non puoi dire no, guardi, era mia. Perché nessuno te lo può dimostrare, no? Devi solo prenderla tu. E si può. Il pensiero, i bambini ce l'hanno, no? Quelli che dicono perché, 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 ma scherzi. Poi, sentimento? No, sentimento lascialo perdere adesso. La retorica del sentimento? Assolutamente, se non conta niente. Il sentimento è una parola di origine latina che finisce con mento. Sensazione, che è l'opposto del sentimento, una parola di origine latina che finisce con zione. Le parole di origine latina che finiscono con mento indicano un'azione, per esempio convincimento, convinci qualcuno, innamoramento, decidi di innamorarti, no? Le parole che finiscono con zione sono passive. Per esempio, infatuazione, non la scegli, non fai niente, ti capita e basta. Ah, che impressione, che è una contrazione. La sensazione è passiva, non ti richiede nessuno sforzo. Il sentimento cosa fa nella tua psiche? Il sentimento frena, limita le sensazioni. Il sentimento serve a mantenere le situazioni già esistenti. Per esempio, tu ami una persona? Sentimento, no? Figuriamoci. Uno dirà, queste cose qui non mi risultano, ma è quello che dici tu, cioè sentimento, tutti parlano bene. Gianni Morandi, Vasco Rossi, Manzoni, parlano tutti bene. Sì, sì, quello che dico io non è, non è nei testi ancora, no? Sono cose abbastanza nuove. Il sentimento cosa fa? Tu ami una persona, cosa fai? Fai una censura su tutte le sensazioni che hai, elimini tutte quelle che potrebbero farti interessare ad altre persone, oppure a farti accorgere che la persona che ami ha meno qualità di quelle che tu pensavi. Non dite a casa queste cose poi che vi dico. Mi ha detto che adesso io ti amavo, però poi ho sentito questo. Tu dì che l'hai pensato tu. Se no poi mi scrivono. Ecco, il sentimento fa questo. Sentimento e ragione vanno accordissimo tra di loro, sono alleati stretti. Quando lo statista non sa come farti pagare le tasse, non ha argomenti razionali a farti pagare le tasse, ricorre all'amore di patria, che è un sentimento. L'appartenenza al gruppo. Il senso del dovere è un sentimento. Il senso di colpa è un sentimento. Tutte cose che ti tengono all'interno di una situazione già nota. La sensazione invece è eccezionale. Non richiede nessuno sforzo. Tu guardi e dici mi piace, non mi piace. Mi insospettisce, non mi insospettisce. Non devi fare nessuno sforzo. Guardo lì, non mi va. Guardo lì, mi va. Ecco, guardo lì e dico questo non lo capisco. Ti viene il pensiero, dici a me. Sensazione e pensiero vanno molto d'accordo come ragione e sentimento. Ragione e sentimento lascia lì da parte. Niente rettorica in questo periodo. Sensazione e pensiero. La sensazione è un'altra caratteristica interessantissima. Le sensazioni sono più grandi, qui c'è un discorso complesso, le sensazioni sono più grandi del tuo linguaggio. Cioè tu con la sensazione sai di più di quello che puoi dire. Esempio. Di cosa sa una pesca? Tu sai di cosa sa una pesca, lo sai perfettamente di cosa sa una pesca. Tue sensazioni. Ma non puoi dirlo. Pensa le sensazioni che mondo ti allargano. Che quantità di dati ti mettono in esposizione. Che non puoi dire. Che non puoi dire. Con le sensazioni. Risultato. Un gatto che non parla conosce un mondo più grande del tuo. Un bambino che non sa ancora parlare conosce un mondo più grande del tuo. Se tu metti da parte ragione e sentimento che sono quelle due abilità di cui vi parlano tutti quanti, quasi tutti, non oggi, però quasi tutti quanti quelli che ti cercano di attirare la tua attenzione sull'ambientalismo e sulla sostenibilità. Ti parla di razionalità e sentimento. Lasciali da parte. Pensa. Sensazione. Pensa. Il tuo scopo, diciamo, è essere geniale. Allora, allargare di colpo. Se tu senti le tue sensazioni e metti in moto il pensiero, che vi ho detto come si fa, tu hai un mondo vastissimo e diventi più geniale. Diventi, cioè geniale, non si può essere più geniale. Geniale, saggio e pericoloso per le autorità. Perché è geniale? Perché elabori, se usi le sensazioni, un numero di dati enormemente superiore a una persona che usa la ragione. E elabori questi dati. E più saggio. Perché? Perché nella sensazione tu senti che questo è un parere, questo è un altro parere, sono contrapposti, ma tu li capisci tutti e due con la sensazione. Con la ragione non puoi. Con la ragione ti schieri da una parte o dall'altra. Con il sentimento ti schieri. Con la sensazione no. Con il pensiero li capisci tutti e due. Quindi la mente è larga, pericoloso per le autorità. Perché? Perché nessuna autorità religiosa o statale sopporterebbe di avere un popolo di geni. Un popolo di Leonardo, un popolo di Raffaelli, un popolo di Michelangeli. Non li puoi più fregare quelli lì. E se tu ti accorgi di essere geniale, cominci ad avere dei bisogni da persona geniale. Se hai dei bisogni da persona geniale, a un certo punto non ti va. Ma non è che non ti vanno per motivi razionali e ideologici. No, non li sopporto queste cose che mi dicono. Non sopporto queste cose che succedono. E se siamo in tanti a essere geniali, che è semplice vi dico, diventa un'opinione pubblica pericolosissima per tutti quelli che vogliono gestire adesso un certo disfacimento del mondo. Dice ma ho paura se è una cosa che va contro lo Stato. Sì, c'è la paura. La paura è un'emozione. Le emozioni sono molto utili. Le emozioni, si è scoperto da poco anche questa cosa. Quello che ho detto fino adesso non si è ancora scoperto. Quello che vi dico adesso si è scoperto da poco con la neuropsicologia. Che le emozioni, di cui la psicologia parla pochissimo, sono invece molto utili al cervello. Perché le emozioni sono non tante, 8-9, sono emozioni dei canali di ormoni che arrivano al cervello e lo fanno diventare più intelligente. Esempio di emozioni. La collera. Se la collera arriva al cervello uno diventa più intelligente. Il desiderio sessuale. Se il desiderio sessuale lo lascia arrivare al cervello diventa più intelligente il cervello. Il gioco. Il prendersi cura. Grande scoperta della neuropsicologia di questi ultimi anni. Se tu ti prendi cura di una pianta sei più intelligente di uno che non ha una pianta. Se tu ti prendi cura di una pianta e di un animale domestico sei più intelligente di uno che abita da solo. E così via. Queste sono emozioni. Poi c'è l'emozione cosiddetta paura. La paura non è un'emozione primaria. La paura è una degradazione di altre emozioni. Importante segnatevelo, cercate di ricordarvelo anche se è la fine di una giornata così intensa. L'emozione è come un fiume. Ogni emozione è come un fiume. Collere, desiderio, eccetera. Se il fiume viene interrotto cosa succede? Esonda. Esonda. Non arriva più dove deve arrivare e allaga i territori circostanti. Ecco. La paura è quando una qualsiasi altra emozione, desiderio, gioco, prendersi cura, viene bloccata. Quell'emozione si frena e esonda. Una sensazione di paura. Per esempio, io provo desiderio per una certa persona, voglio attagare conversazione a questa persona, freno per motivi di qualsiasi tipo, perché decido io per educazione, da quel momento in avanti divento timido. Non sono timido perché freno, divento timido perché ho frenato. Capite? Voi segnatevelo, poi lo capite dopo perché abbiamo pochi minuti per cui segnatevelo questo qui, poi tra poco lo capite. Ci ripensate? Mi sembrerà di averlo pensato voi, per cui sembrerà una cosa molto più intelligente se la dico io. Ecco, quindi se tu hai paura di una qualsiasi cosa, non è normale. È perché c'è una tua emozione che viene frenata. Non stai facendo qualcosa che ti piacerebbe fare. Quindi hai paura di essere geniale? Fermi tutti. Cosa non stai facendo che ti piacerebbe? Funziona, eh? Io l'ho scoperto da poco. L'avessi scoperto 40 anni fa, a quest'ora altro che... Però l'ho scoperto da poco e il cambiamento è stato eccezionale. Quindi ho paura. Fermi tutti. Cosa non faccio che mi entusiasmerebbe? Lo scopri e di colpo la paura passa. Non il coraggio, no. L'accorgeti di quello che tu senti. A questo punto tu hai le istruzioni, se te le ricordi, sicuramente te le ricordi, se te le ricordi hai queste istruzioni per essere così semplicemente geniale, cioè aperto a tantissimi stimoli esterni, è pronto a cogliere idee nuove e a far sentire i tuoi bisogni diversi e non hai più nessuna scusa per non esserlo. Mi raccomando. Quindi dice no, potevo essere geniale, ma no, non lo sono. Tra cent'anni diranno che bello quel periodo storico in cui si sono accorti di poter essere geniali. E quando scopriranno che tu eri nato in quel periodo, hanno detto tu eri geniale? No, purtroppo non ho sentito quell'intervento di Ted. Ecco, non fate quella figura lì, mi raccomando. Grazie per l'attenzione.